salve a tutti i watch che vari io sono super joomaster e oggi bentornati su super smash bros ultimate 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 vabbè allora oggi sono qua in compagnia di refiamma salve a tutti che bello e oggi andiamo a fare smash di gruppo wow non l'ho mai fatto davvero no non l'ho mai fatto siamo con le rovine xl facciamo 3 contro 3 o 5 contro 5 a me non l'ho fatto oddio sono il giocatore 2 no ma che schifo allora io lo scelgo tu voucher luca luca se io prendo daisy no allora che posso prendere chi posso prendere sono un po in sono un po indietro e poi se proprio voglio mettere un bastone nel sedere grazie ma solo perché sei giù ok luca sversus wolf lupo maledetto via nanda catare le rovin xl non mi capo però la grafica ma tipo c'è la gente che dice che lo smash più dimenticabile sia foro io 3ds guarda come ti invito madonna ti sta massacrando dimenticabile ma non mecca luca stai un concetto dottier vittoria è un concetto legge oltre a picco ma è estra piccoli alla fine delle lo so sarei più di chi mi metano noi io sono che creato una canzone di king che fa tipo così king ed è un pingüe no davvero potente si è figo che lui ha il martello cross e lungo non si vedeva da mili poi mili mele la gente dice ma smash bros mili e lo smash il migliore di tutti ma dai meglio di che ok ma più meglio di tutti ma anche no è meglio meglio no dai sono veramente è morto per questa roba ma io morivo sempre nella modalità la buster contro link young link young link anche young ling young signorino alfabeto oma va 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 dai no amica dai vieni qua vieni qua dai che mi devo no ok vedete venire allora vengo no surprise b**** si guarda che ti sconfigo eh oh no devo no ma cos'è la palla di me o idea ok ok è magica è magica agia 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 ma guardate estremamente non lo so ma io qui no no che volevi no io volevo guardate ciò ti morirò no pronti via ok mori niggas non riesci neanche prendo la canna da pesca raga bowser è il migliore ma dai ma che che schifo premia per favore adesso cambiamo scenario prendiamo uno bello per mare guarda ma che proprio prenderò i personaggi pò riprendere un paio nesso nemmet mi mette più ben io presto ho limar perché ho limar ragazzi ha personaggi oppi nessuno l'ha capito più di conno e olima faccia Dark Joe E poi metto Non lo so Adesso non parlerò Per tutto il resto del video Fino a Dark Joe Perché mi devo concentrare Mewtwo Adesso diventerò uno Della chiesa cattolica Mi ricordate i Super Smash Bros Bro Che c'era l'annunciatore Che chiamava Pikachu 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 Sonic vs Ridley Concentrazione attivata Si ma attacca bro eh Ok va bene Ma non lo so usare Ridley Non lo sai usare Ridley Saramente Non lo so usare Non l'ho mai usata Ma perché l'hai preso E perché volevo Wasabi No ma mai Sono entrato nella padella Fino a come che ho stracciato Devo stare zitto Ora c'è Ness Contro Sonic Siaro 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 male Oh Prossimo personaggio Eric Cartman In Smash Siaro Prossimo personaggio Siaro Prossimo personaggio PiS Picca Sonic Un riccio Malmattagio Dai non puoi PiS 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 ma se io mente ora sono samus oscura è che è molto bella siamo sputa devo stare zitto mi devo concentrare tu parla ok raga allora adesso ho capito allora questo video raga è molto pazzo e poi c'è detto che la mia let's play sul cassetto di smash che tutti fanno la non puoi non puoi io sono il 20 ore capite ma la pillola nel naso dai cacchio ormai dai no adesso no 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 è no è no arei scemo devo vivere e addio adesso facendo contro dottor mario da tanta tanta concentrazione con la camera da pesca ora che ti dà una bella siringa appena la insulti muori male no anzio limar perché ho scelto olimar dai sa che mi sa che perderai che maschile male ok no 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 dicevi no per te la c***a spesa lei è capito aiutami no ma do olimar è un personaggio op capito no 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 euro x ma c***o Ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo. Potere di Olimar! Aspetta devo prendere il coso. No dai, non salire su perché è bello. No! Vai, Martel Koopa! No, Martel Koopa no, 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 aspetta, aspetta. No, è morto male però, ah ok. Ti colpisca. Ma hai inventato? No, vai Olimar! No, non è morto. Questo c'è, Olimar is the... Madonna! Appena lo dico mi ha ammazzo, appena lo dico mi ha ammazzo. Olimar è il migliore raga, Olimar è il migliore raga. Dai, ma tu sei parte contro Olimar, dai. Non lo so usare il mio tu però vabbè, cioè non deve morirci. Dai, modalità contro. Pronti? Via! No, dai. No, io tu dai morti. No, dai. Dicevo per dire. Vieni qua. Vieni qua. No, giù. Vieni qua, vieni qua. Ma non è giusto! Dai, vieni qua. No, non puoi. Olimar visserà. No dai, perché c'è Bullpix? Perché ne hai fatto? Nooo! Eh, la pia, bravo. Codo male. Bravo, Olimar. Dai, eh. Dai, YouTube contro gli Ice Climbers. Oh, appena dici che un personaggio fa schifo ti fa il culo. No, ma è vero! Via! Concentrazione che è l'ultimo. Dai, non è possibile. No! Ti uccide, ti uccide, ma... No! Vive! Via! Non si creda. E ho vinto, signori! Yeah! Beh, ne facciamo uno. Casuali! Adesso, raga, tutti casuali. Tutti casuali. Tutti casuali! Casuali, casuali, casuali. Vediamo. Dai, vediamo chi esce. Nooo! Nooo! Allora, primo, Incineroar. Si chiama... Ok. Oh, io sono Baionetta. Baionetta contro lui. Incineroar. Che brutta. Non è vero. Ma è più l'altra versione, non questa. Oh, Incineroar. Mai non lo so usare Incineroar. 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 Senti, vai sulla nuova. Senti, non lo so usare, ok? Non ho giocato solo in luna. Ma dove c'è? Mi gas... Ma no! Ma che... Ho rinventato il tempo e lo stavo colpendo. Abbaiochella. No! Madonna! No, dai, che culo, però! Giglippa. Ti fa cazzo di culo, c'è. Perchè sputti sul pitafono? Are you fucking sure, please? Giglippa, tu e mamma? No! 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 Dai, non vuoi! Sì! Io l'alloro Giglippa! Oh, veramente, dai! Donkey Kong! Contro una palla di vetro! Non la palla di vetro. Proprio lo scenario proprio perfetto. Gigli cackle. Dai! No! Non rispondi merda. Ma che poi la mossa che si addormente è tipo il calcio quello di Luigi. Quello che One Show faccia fa. Mamma mia! Non hai fatto niente! Allora, secondo me, la mossa che Giglippa dorme non serve a niente. Ma che c'è? Ti ho un controditico! Ma questa è bella, questa è bella. Sì, infatti. Attento. No! Donkey Kong se lo metto più perchè lo uso nella modellità storia. Io uso più Bowser. Non la storia, intendo. Sì, lo so. No, dai, che Pokémon... Ma dai, era mia la Pokémon! Non è giusto! Eh, vabbè, mica mi sciotta. Cos'è me? Ahah! Ahah! Meno male che è più agile. Ma dai! Ma dai! Ma... Sei mica di Kong e sei nato. La pizzo. Ma... Quella bossa che fai... In giù... È troppo più... Vaffanculo! 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 Allora, tu sai il villager... Villager... Abitante! Contro Donkey Kong! Cazzeggio! Lasciate tanti mi piace... No! Che culo! Non puoi! Hai avuto culo! Non puoi! Non puoi! Hai avuto culo! Non puoi! Ma è bello! Non puoi! Sono preso! Il sale della c***a! Ti uccido! Ti uccido! Ti uccido! Ti uccido! Ti faccio si 악entere! Ti faccio smarare! Non puoi uccidere mai! Non puoi uccidere mai! Dai, vieni! adesso raga no stella scelgo te no stella no e vabbè questa la perdo per forza a meno che non mi serve al culo ultimo no pit contro Ryu no ancora Donkey Kong contro Ryu vabbè Ryu è forte Ryu con gli soglia Dukan dai non fai come ma no ma come sei salito su raga ho vinto e vai ok comunque questo è tutto per questo episodio di Super Smash Bros Ultimate ringrazio per essere stato qua in questo video ciao ok quindi noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao